Mi sto muovendo insieme all'ufficio patrimonio per quello che riguarda la rinegoziazione dei canoni delle antenne perché all'epoca con un decreto Monti le antenne praticamente sono state paragonate a opere di urbanizzazione primaria quindi non è più dovuto che i gestori ci pagano a noi un canone d'affitto bensì possono pagare tranquillamente i semplici canoni d'occupazione di solo pubblico. Lo aveva dichiarato poco più di un mese fa ed oggi l'assessore alle manutenzioni del comune di Teramo, Rudy Di Stefano, ha centrato il suo obiettivo quando è stata approvata in giunta la rinegoziazione del canone dei vari gestori che hanno installato in città le antenne negli anni scorsi. La notizia sta nel fatto che se almeno quattro dei gestori accetterà la proposta del comune entrerà nelle casse dell'ente da un minimo di 500 ad un massimo di un milione di euro pagati in anticipo di sei anni fondi già vincolati per il rifacimento degli asfalti a Teramo fondi che non potranno essere distratti per fare altro. Abbiamo avviato una serie di contatti, di incontri con i vari gestori per trovare una soluzione intermedia cioè a fronte di un forte sconto che andiamo a applicare a queste tariffe, questo affitto che a noi ci pagano loro riconoscerebbero a noi dei canoni anticipati, la formula d'accordo che stiamo cercando è almeno sei anni anticipati questo ci permetterebbe di fare subito cassa e destinare gli asfalti in modo che abbiamo subito in contanti dei soldi che ci permette di fare veramente degli interventi risolutivi.